Il corso Storia degli Ordini Religiosi di Belluno è un corso di lezioni videoregistrate, da oggi disponibile sul sito AccademiaBM.it, la piattaforma e-learning dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, e si compone di 10 video-lezioni dedicate alla storia degli ordini religiosi di Belluno. Quindi dopo una prima lezione introduttiva ci saranno tutte le lezioni che vanno a considerare ognuna uno o due degli ordini che sono stati presenti nel territorio della ex diocesi di Belluno, di cui oggi purtroppo non ne rimangono che un paio, ma che invece nel passato erano numerosi e che hanno, possiamo dire, anche affatto la storia della nostra provincia, poiché un territorio rurale come quello del bellunese la sua storia non può prescindere dalle influenze che le istituzioni ecclesiastiche hanno avuto sulla popolazione.